Il primo oggetto che ho scelto è l'orologio, il secondo è il microfono, il terzo oggetto sono gli infradito. Sono Andrea, capo animatore. Ho scelto l'orologio come elemento essenziale del mio lavoro perché la puntualità è importantissima. Chiaramente noi abbiamo diversi appuntamenti durante la giornata in cui abbiamo attività con i nostri ospiti e chiaramente non possiamo fare tardi a questi appuntamenti. C'è un orario ben preciso, da un programma da rispettare e i nostri ospiti sanno che a quell'ora c'è quell'appuntamento. Parlare al microfono per un capo animatore è alla base, per il semplice fatto che comunque dobbiamo presentare delle serate, dobbiamo parlare e dire che cosa succederà il giorno dopo piuttosto che quello che andrà a succedere durante la giornata. Quindi assolutamente avere una buona comunicazione, un buon utilizzo del microfono è indispensabile. Il terzo oggetto sono gli infradito perché è un oggetto che assolutamente nell'animazione è da evitare. C'è un po' lo stereotipo del fatto che l'animatore è quello che è in vacanza, che se la gode. In realtà si lavora, si lavora tanto più di quello che la gente può pensare. Non siamo assolutamente in vacanza e anche il fatto di usare l'infradito in qualche modo può essere una cosa un po' poco professionale. Il primo consiglio che do a chi comincia questa esperienza, questo lavoro, è assolutamente di essere flessibili. Ci troviamo a lavorare con tante persone diverse, tante culture diverse, quindi l'imprevisto è sempre pronto. E naturalmente proprio perché sono culture diverse, hanno abitudini diverse dalle nostre e renderli felici nella loro vacanza per noi è essenziale. Il secondo consiglio che do è di imparare le lingue. Le lingue, soprattutto l'inglese, ormai sono essenziali nella vita di tutti i giorni e mai come in questo lavoro. Proprio perché ci troviamo in certe strutture a lavorare con ospiti che sono olandesi, danesi, inglesi, francesi, spagnoli, russi e chi più ne ha più ne metta. Quindi quantomeno l'inglese per poter comunicare con tutte loro serve. Sembra sciocco ma il sorriso è alla base di questo lavoro. È il biglietto da visita che noi diamo al nostro ospite quando gli diamo il benvenuto nella nostra struttura. Siamo qui per dare felicità all'ospite e dobbiamo trasmetterla, quindi sorridere, sorridere sempre ma nella vita. Siamo qui per dare felicità.